Domenica 5 gennaio, buongiorno, sono le 7 del mattino, una nuova puntata di Omnibus si apre, si apre come consuetudine con la rassegna stampa, con la lettura dei giornali. Allora, probabilmente molti di voi già lo immagineranno, l'apertura, quindi grande spazio, viene dato alle dimissioni irrevocabili del Vice Ministro dell'Economia Stefano Fassina. Le ragioni sarebbero imputabili ad una battuta che lo stesso Fassina ha giudicato infelice, appunto da portarlo alle dimissioni, cioè il fatto che durante una conferenza stampa presentata dal segretario del PD, Renzi, un giornalista abbia chiesto, diceva Fassina sembra che voglia dimettersi e Renzi abbia risposto ironicamente con un Fassina chi. Ecco, questo ha provocato la reazione del Vice Ministro, ha presentato le sue dimissioni irrevocabili, il Premier Enrico Letta ha provato a farlo recedere, ma al momento restano sul tavolo le dimissioni di Fassina. Allora, vediamo i giornali come trattano la questione, cominciamo dal Corriere della Sera, Fassina si dimette, la causa è Renzi, per il Vice Ministro e il Leader PD ha un'idea padronale del partito. La scelta, dopo una frase del segretario, che ha finto di non sapere chi fosse, Governo scosso, Letta preoccupato. E poi ancora scendiamo nella pagina, vedete, di taglio centrale, caos delle scadenze per le tasse sulla casa, ancora non sono chiari le aliquote e i tempi. E poi la foto ritrae dei presunti miliziani di Al-Qaeda, allora che cosa è successo? Che dopo due anni, lo vedete, lo scrive qui Franco Venturini, due anni dopo il ritiro americano dall'Iraq, la bandiera nera di Al-Qaeda sventola a 60 km da Baghdad, cioè a Fallucia. In basso ancora, vedete Aldo Grasso, si occupa di Denis Verdini, l'esponente vicino a Silvio Berlusconi, allora leggiamo che cosa dice, innanzitutto nel titolo, Verdini il riformista viola che ha già abolito il Senato. Matteo Orenzi, lo sapete, ha proposto con una lettera mandata ai leader, agli esponenti di partito, una riforma della legge elettorale con tre opzioni e poi, tra le altre cose, ha proposto anche l'abolizione del Senato. Allora scrive Grasso, per giungere allo scopo, il suo interlocutore preferito è Denis Verdini, Denis Verdini naturalmente per quanto riguarda l'altra parte politica, che giorni fa gli ha telefonato. Dice, pare che in materia parlare con il senatore Verdini sia come parlare con Silvio Berlusconi in persona. I due si riconoscono, cioè Verdini e Renzi si capiscono al volo, stessa furbizia toscana e stesse maniere spedicative. Non hanno bisogno di intermediari e di ambasciatori, semmai possono contare su molti amici in comune di diverse variegate appartenenze. Matteo si è messo in testa di abolire il Senato, ci ricorda Grasso, è convinto che il ping pong tra Camera e Senato sia superata, che oggi si debbano fare le cose più spedite. E allora qui diciamo il colpo di teatro di Aldo Grasso perché dice, ecco il segreto che vi svelo, il senatore Verdini è l'assenteista numero uno del Senato, cioè di quella Camera, di quel ramo del Parlamento che Renzi vuole abolire. In questi nove mesi e mezzo di legislatura, dal 15 marzo 2013, l'ex coordinatore del PDL ha partecipato solo a due votazioni su 2070, per lui il Senato non esiste più da un pezzo e fatta salva l'indennità, di fatto lo ha già abolito. Così Grasso. Vediamo la Repubblica, il titolo naturalmente sul caso Fassina, governo PD scoppia il caso Fassina, Renzi ironizza, il vice ministro si rimette ultimatum sulla legge elettorale. Nell'occhiello alla segreteria dei democratici il leader annuncia sulla riforma del voto accordo entro una settimana, poi attacca Alfano sulle unioni civili. Vi segnalo di spalla, lo vedete, questo editoriale di Eugenio Scalfari, fondatore proprio del giornale La Repubblica, il dio che affanna e che consola. E allora vediamo che cosa scrive in questa prima parte, poi naturalmente il seguito è a pagina 23 per chi vuole approfondire. Allora Scalfari dice appartengo alla categoria dei curiosi e finché è dura mi ci trovo bene, specie in un'epoca come quella in cui viviamo, dove i temi e le persone che dessano curiosità sono numerosi e configurano un panorama molto frassagliato. Volessi farne un elenco, scrive Scalfari, lo aprirei con Papa Francesco e poi a seguire Giorgio Napolitano, Angela Merkel, Barack Obama, Enrico Letta, Matteo Renzi, la generazione dei giovani nati tra gli anni 80 e 90, la generazione dei bambini nati dopo il 2000 e che ora hanno almeno 5 anni. Ci metterei anche il mutamento climatico, l'economia globale, le nuove tecnologie della comunicazione. E poi ancora comincio da Papa Francesco, ne ho scritto già più volte ma ogni giorno ci reca una nuova sorpresa e anche nuove polemiche dentro e fuori dalla Chiesa. E allora proprio su questo vedete il Papa apre alle coppie gay, da loro nuove sfide educative svolte nell'incontro con i superiori generali, dobbiamo annunciare Gesù a una generazione che cambia. Sono le 7 e 5 minuti, diamo la linea alla regia per la pubblicità, ci vediamo tra qualche istante e continuiamo insieme la lettura dei giornali. Vi aspetto. 11 minuti dopo le 7, ben ritrovati. Allora andiamo a vedere le altre prime pagine dei giornali. Abbiamo la stampa di Torino, Fassina, primo strappo per Renzi. Il Vice Ministro si dimette dopo una battuta del Sindaco in conferenza stampa. Il leader del PD sulla legge elettorale tentiamo di chiudere in settimana. Nell'occhiello si spiega il gesto a Firenze segreteria riunita a 5 ore, poi l'attacco ad Alfano, non usi diritti civili per bloccare le riforme. In basso abbiamo di Fabio Martini il retroscena, vedete, la sinistra ha rotto la tregua, la sinistra del PD, Vili Pese, depressa dopo la sconfitta storica alle primarie, si è ripresa la sua libertà di giudizio e di azione con un gesto eloquente. Le dimissioni dal governo di Stefano Fassina, il quarantenne di punta dell'era Bersani. Ritorniamo per un momento in alto nella pagina. Vi segnalo un'altra notizia che troviamo anche su altri giornali. A lupo, a lupo, ricomincia la strage. La guerra cruenta dei pastori. Negli ultimi cinque mesi tra Maremma e Umbria, otto esemplari uccisi a fucilate e bastonate ed esposti in piazza. E poi nella foto, ritorniamo in basso, niente assalti, la caccia agli sconti a tutto l'anno, primo giorno senza botto, code e ressa solo nelle boutique del centro, a Torino e Milano. È iniziata ieri, come sapete, la stagione invernale dei saldi. Il messaggero, governo, primo strappo di Renzi, il leader PD Gela Fassina che si dimette dall'esecutivo, poi Pungeletta, spread giù, merito di Draghi. Agli alleati, legge elettorale in sette giorni. Alfano, non usi le unioni civili per bloccarla. Nuovo centrodestra, così è crisi. E poi vi segnalo di spalla questo intervento di Romano Prodi sul Medio Oriente. Il titolo è il ruolo chiave dell'Italia per salvare il Libano. Naturalmente il messaggero si occupa anche di calcio. Questa sera, oggi c'è la super sfida per lo scudetto Juve Roma. Ecco la super sfida, Garzia, Torino per vincere. Poi ritorniamo invece giù, in taglio centrale. Nuove tasse sugli immobili. A gennaio si rischia il caos, giallo sui versamenti. Tasi verso un rincaro prima di nascere. E poi l'anticipazione di un'intervista al Ministro Giovannini. Ecco il piano per il lavoro, quattro priorità per ripartire subito. Lo vedremo subito dopo. Il Sole 24 Ore, quotidiano della Confindustria. Fisco record sull'impresa. Il Total Tax Rate al 65,8%. Tasi verso l'emendamento sul 3,5 per mille per la prima casa. Il titolo su Fassina. Renzi, Fassina chi? E il Vice Ministro all'economia si dimette. Vediamo l'unità allora. Il quotidiano del PD come titola. Renzi accelera, Fassina lascia. Il segretario sulla legge elettorale risposta. In una settimana attacca Alfano sulle unioni civili. Ha azzerato la famiglia. Ma una frase sul Vice Ministro crea un caso politico. Dimissioni irrevocabili. Così l'unità. Libero sceglie un'apertura diversa. Sentenza shock. Obbligo di moschea in tutte le città. Il Tar della Lombardia accoglie il ricorso degli islamici. Boccia il piano regolatore di Brescia. Altra abbastonata giudiziaria alla politica. E ora prepariamoci all'invasione. Vi segnalo che Libero mette qui in basso la notizia di Fassina. Vedete Matteo caccia Fassina ma in minoranza fra i suoi stessi parenti. Vediamo il Fatto Quotidiano. Torna invece a dare molto risalto alla notizia. Renzi dimette Fassina. Primo si lura al governo. Fassina chi? Una battuta del segreto del PD. Provoca uno smottamento nell'esecutivo. Il Vice Ministro dell'Economia annuncia dimissioni irrevocabili. Creando un problema a letta tra il Sindaco e il Giovane Turco. Schierato con Cuperlo. Già scintille in passato. Il giornale letta alla frutta. Il Governo perde i pezzi. Si dimette il Vice Ministro Fassina. In polemica con Renzi. Rimpasto in vista. Elezioni pure. Alfano isolato e umiliato. Prove di rientro a casa. E poi da De Girolo a Maddemagisis. Vedete ritratti qua nella foto. Che pena le intercettazioni fai da te. L'ultima frontiera degli spioni. Privati che registrano le conversazioni con i politici. In basso tasse e tariffe. Imprese stangate. E i pedaggi inchiodano la ripresa. Concludiamo con due giornali sportivi. La Gazzetta Sportiva. Stasera Juve Roma. Per chi suona lo scudetto. E poi il Corriere dello Sport. Anche in questo caso. Lo vedete. I due allenatori. Quasi sembra che si guardino. Tutta la verità. Juve Roma. Lo scudetto in gioco. Allora cominciamo con gli approfondimenti. Naturalmente partiamo proprio dalla vicenda fassina. Andiamo a leggere il retroscena di Tommaso Ciriaco su Repubblica. Vediamo che cosa scrive. Allora Letta pronto a scendere in trincea. Pagina 3 vedete. Con Matteo. Ora è sfida politica. Allora scrive. Consapevole dei rischi. Letta studia da giorni le contromosse. L'obiettivo è imbrigliare il nuovo leader democratico con il rimpasto. Una volta che si ragiona del patto di governo si ragiona su tutto. Io sono pronto. Così dice. Ma al Presidente del Consiglio interessa di più l'opportunità di frenare il pressing renziano. Per questo alzerà l'asticella e tornerà la carica per proporre la promozione di Graziano del Rio, unico ministro vicino al sindaco. Intene difesa o giustizia. Questo il ventaglio sottoposto a Renzi. E ancora. Il segretario per adesso prende tempo. Reclama innanzitutto un'intesa sulla legge elettorale. A buon gioco a chiedere una scossa sui problemi, non sulle poltrone. E allora siccome Tommaso Ciriaco ha chiamato in causa in questo retroscena del Rio il ministro del Rio, vi segnalo un'intervista sul Corriere della Sera, pagina 3. Vedete proprio il ministro del Rio. La battuta non ha aiutato. Dichiarato. Ma le dimissioni erano già annunciate. Stefano, riferendosi a Fassina, dice è persona seria. Il segretario non voleva insultarlo. Il ministro Renziano, nessun rischio frattura, anche se sarebbe stata utile una discussione approfondita piuttosto che un'accelerazione di questo tipo. E poi vi leggo questi due sommari. Per brevità di tempi, naturalmente, le priorità fuori da economia, stabilità e riforme, non c'è contratto di maggioranza. E sulla legge elettorale il ministro del Rio dice dialogo aperto con tutti, ma l'accordo deve partire dal perimetro degli alleati. Così il ministro del Rio. Ritorniamo al quotidiano Repubblica perché a pagina 2 ospita un'intervista a Civati, sfidante di Renzi alle primarie. Io che volevo votare subito, non mi auguro una fine traumatica della legislatura. E allora come commenta la vicenda Fassino? Dal sindaco un accesso di supponenza, ma Stefano ha colto al volo l'occasione. E allora gli chiedo Umberto Rosso che l'ha intervistato. Onorevole Civati, ha sbagliato Renzi a snobbare platealmente il viceministro? E risponde Civati. Al suo posto non l'avrei fatto. Se ogni volta che uno propone qualcosa che non aggrada il segretario tira fuori tanta supponenza, chi si adazzarda più a sollevare la minima critica? E poi ancora dice, ma lo strappo di Fassina è arrivato troppo a botta calda? Forse non aspettava altro per mollare. Ha colto al volo l'occasione. Già una volta Fassina aveva minacciato le dimissioni, poi rientrate. Dentro il governo la sua posizione si stava facendo sempre più difficile. La sua linea è in rotta di collisione con quella del nuovo segretario. Insomma, gli chiede ancora Rosso, l'incidente è stata l'ultima goccia. Dice, quel che è successo dimostra quanto sia fragile e instabile il rapporto fra l'intero governo Letta e il PD a trazione Renzi. E ancora, dice, chi tocca il rimpasto muore? Dice, Letta vorrebbe renzizzare il governo. Non sta valutando se mettere dentro due o tre uomini di Matteo per garantirsi il cammino. Però sa anche che la danza delle poltrone che innesca può diventare una danza macraba per l'esecutivo. Rischia di non controllarla. E ancora, dice, il segretario dice, con i suoi ministri e con un patto di governo sottoscritto è chiaro che l'esecutivo diventa il governo del segretario e addio alle mani liberi. Ancora, dice, messa così, la strategia di Renzi è un abbraccio mortale per Letta. La tensione è fortissima e il governo in realtà è sempre più fragile. Una volta lo dicevo solo io, ora vedo che in tanti non gli danno lunga vita. Allora, andiamo a vedere invece un'altra questione importante. Per un momento lasciamo la questione Fassina. Andiamo a vedere invece, ad approfondire l'intervista al ministro Giovannini sul lavoro. Un altro tema importante, naturalmente, in questa fase del Paese. Il titolo, a pagina 3 del messaggero, il piano Giovannini, ecco le quattro priorità. Ammortizzatori ai parasubordinati, aiuti agli inoccupati, riqualificazione e sostegni. Messaggio a Renzi, benvenga il Job Act, ma senza crescita non si crea preoccupazione. E ancora, vediamo, con la ripresa della produzione, per prima cosa dobbiamo riuscire ad accrescere l'opportunità di lavoro di chi è disoccupato o inattivo. In secondo luogo, dobbiamo favorire la rioccupabilità di chi magari è stato in cassa integrazione per un altro anno e ha perso professionalità. Il terzo punto, ridurre il rischio che nelle imprese, dove ancora la ripresa non si vede, diminuisca l'occupazione. Infine, dobbiamo ripensare il sistema degli ammortizzatori sociali. Allora, sono le 7.20, io mi fermo qui con la rassegna stampa. Adesso ci sono le previsioni del tempo con Paolo Sottocorona e poi la prima edizione del telegiornale. A te Paolo, buongiorno. Sì, grazie, buongiorno. Questa prima carta che ci fa vedere le piogge previste nella prima parte della giornata di oggi non lascia dubbi, direi, perché se al sud, all'estremo sud, abbiamo poche piogge deboli, già arrivando all'altezza della Campania, del Molise, abbiamo piogge di una certa consistenza, al colore blu, e poi questa situazione prende tutta la penisola Sardegna, Corsica e al nord ancora le zone che presentano oltre al blu il colore giallo, che indica precipitazioni abbondanti, quindi maltempo marcato. Questa è la situazione di oggi. E ancora una volta, volendo proprio andare nel dettaglio, ma insomma tenete conto che un certo margine c'è, la Liguria di Ponente, Basso Piemonte e poi comunque anche le zone alpine, prealpine, centrali, orientali. Insomma, il maltempo sicuramente c'è. Il dato positivo qual è? Che già nella seconda parte della giornata di oggi, positivo per qualcuno come sempre, poi a chi va meglio e a chi va peggio, al sud peggiora anche sulle zone ioniche, ancora il nord-est con fenomeni intensi, ma già si attenuano le piogge sulle regioni di nord-ovest, sulla Sardegna, sulla Corsica, anche in Toscana in serata, quindi comincia a spostarsi e a ridursi. Nella giornata di domani, prima parte, restano delle piogge sulle zone di nord-est, sul medio versante adriatico, ma parliamo di altra cosa, è qualche pioggia e basta, mentre il maltempo, seppure un po' meno marcato, ma non del tutto attenuato, specie tra Calabria e Sicilia, tende a restringersi sulle zone del sud. E infine, no, infine, vediamo la fine della giornata di domani, di Befana, resta soltanto il sud con delle piogge sul resto del paese, qualche nuvola, cemma, ci sono anche le schiarite abbastanza ampie, e infine, questa volta sì, la giornata, prima parte della giornata di martedì, in cui comincia a migliorare anche al sud, sulle altre zone c'è qualche bella, così, qualche bella zona di sereno e ci sarà probabilmente, fra lunedì e martedì, anche qualche nebbia. Le temperature tendono a scendere, ma erano salite abbastanza, quindi i valori sono piuttosto normali per la stagione. Noi, se volete, ci vediamo alle 7.50, fra poco la prima edizione del nostro telegiornale.